Tra meno di un mese il Parco dei Divertimenti e dell'Andia avrebbe dovuto effettuare una prima riapertura al pubblico, ma ad oggi questa previsione non potrà essere rispettata. Nel primo pomeriggio il sindaco Luigi De Magistris ha incontrato i 54 dipendenti che da giorni occupano la struttura per fare il punto della situazione e trovare al più presto una soluzione al problema. I prossimi passaggi sono per mantenere l'impegno dell'apertura di Dell'Andia quanto prima e garantire innanzitutto la prosecuzione della cassa integrazione 54 lavoratori, rescindere il contratto con chi aveva preso degli impegni e non ha mantenuto e insieme a Mostra, insieme a Curatela, al giudice procedere alla nuova fase, che è quella dell'individuazione di nuovi soggetti con riferimento ai quali stiamo già lavorando per cominciare un'avventura tutta nuova che tenga dentro Mostra, il comune, imprenditori seri, capaci e che amano la città e che amano i Dell'Andia, gli stessi lavoratori e la stessa città di Napoli perché l'idea nostra in questa fase dopo quello che è accaduto è tenere dentro nella gestione anche i lavoratori, anche la stessa città, la stessa Mostra e la stessa amministrazione comunale. Quindi vogliamo rafforzare e consolidare ancora di più e dell'Andia. Il sindaco ha anche preso l'impegno con noi che con la sua carica istituzionale interagirà con il Presidente della Regione Caldoro perché abbiamo il problema imminente della scadenza degli ammortizzatori sociali. Quindi il primo giugno i lavoratori saranno completamente scoperti da ogni tipo di ammortizzatore sociale. Quindi la garanzia che il sindaco, l'intera giunta, l'assessore Pisco, l'assessore Panini sono sul problema, questo ci fa comunque stare maggiormente sereni. È chiaro che gli abbiamo chiesto di insistere con questa celerità perché in questa fase sono fondamentali i tempi.